Loro sono Sara, Mascia, Budino ed Iride sono quattro cucciole in cerca di famiglia e arrivano da Borgo San Lorenzo dove sono stati trovati in stato di abbandono assieme alla loro mamma. Erano diciamo che tenuti all'interno di un campo da soli. Sono stati così sequestrati ed affidati alla pensione per animali in Nikos Dog Village quando avevano solo qualche giorno. Noi abbiamo dato la disponibilità per tenerli fino al momento in cui appunto poi non potessero essere presi dalle nuove famiglie e infatti sono qui da noi da circa due mesi e mezzo e adesso sono pronti per trovare casa. Sono dei cuccioli fantastici, sono molto socievoli, sono assolutamente amorevoli, dolci, hanno tanta voglia di giocare. Per i quattro cuccioli e per Kira, la mamma, adesso si cerca una famiglia. Sono qui da noi da circa due mesi e mezzo e adesso sono pronti per trovare casa. Sono dei cuccioli fantastici, sono molto socievoli, sono assolutamente amorevoli, dolci, hanno tanta voglia di giocare. Anche la loro mamma è fantastica, una canina molto 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 intelligente. Loro hanno sicuramente bisogno di persone che sappiano gestirli. Se volete adottarli può rivolgersi a voi? Sì. Un controllo pre e post affido. Un controllo pre e post affido, sì. Cerchiamo una famiglia che sia disponibile a questo. E c'è l'obbligo della sterilizzazione, sia per... Sì, abbiamo tre femmine e un maschio. Un controllo pre e post affido.